Ciao a tutti ragazzi bentornati nel canale di Giacone X Svapo Oggi facciamo il White Star di Seven Wonder White Star di Seven Wonder Leggi cosa c'è scritto sopra Giacone Allora Seven Wonder White Star Coconut Milk Una roba bella Latte di cocco Allora lo nasiamo E' stato presentato a Vapitali no? E' stato presentato a Vapitali Dov'eri tu? Non c'eri? Latte di cocco Latte di cocco E non cocco saponoso Cocco Allora se ci seguite da un po' sapete che io odio il cocco Perché sa sempre di saponetta Questo è il primo cocco che trovo che non sa di saponetta Au A Giacone gli si rizza lo pelo Come hai detto tu? Certo è fuori onda Sa proprio di Raffaello E' identico a Raffaello Il cioccolatino per chi non lo sapesse Si manca la parte di cioccolato bianco Ma non lo so Per me sa proprio di Raffaello Per me sa proprio di Raffaello Mi piace proprio Sa proprio di Raffaello Col complesso da flavor 0,30 50 watt Su Vapefly Su Pixi Vapefly Andate a vedere il video Perchè sennò siete dei Bastardo Buono si Buono anche lui Mi piace A me sa di Raffaello Mi piace Io do un bel sette e mezzo Mi piace Perchè si sente il cocco Ma non è un cocco Smagoso No Acido Non è un cocco buono Secondo me Non riuscirei a sbapparlo tutto il giorno Però alla sera esci Vai a mangiare un gelato Ti prendi un bel gelatino Dopo il gelato ti fai la bella sbappata Di staffare qua Inca il gelatino Io gli do un 8 Anche secondo me Anche se secondo me Non è da tutto il giorno Io gli do un 9 Per quello che ho detto prima Che non sa di saponetta Che non sa di saponetta E' il primo liquido al cocco Che effettivamente sa di cocco Per me sa proprio di Raffaello Buono buono Mi piace Signore video corto Ormai ultimamente li pensiamo tutti corti Perché sapete perché no? Sai perché? Non so perché No Non sono fatti i miei No Noi facciamo i video corti Perché loro sono dei Bastardi Bastardi Seguiteci su Instagram Tutte le cose Ma io mi sono rotto le palle Io dire sempre le stesse cose Adesso prima o poi Le lasciamo solo scritte sotto in descrizione E arrangiatevi Ecco Fate quello che volete Basta che ci seguite su Instagram Firmate la petizione Soprattutto quella è la cosa più importante Di seguirci su Instagram L'ho già detto Di iscrivervi al canale E se non fate tutte queste cose È inutile che ve lo dico Arrangiatevi Perché se no Senti dei bastardi Quindi ci vediamo al prossimo video Che non si sa qual'è L'ultimo sono fatti Stefanello Eh 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 Va bene ciao